ciao oggi vi parleremo dell'acad eider visto che ci avete chiesto l'acad eider è l'antenato sarebbe l'antenato dei moderni autogrill nonché l'antenato di amazon adesso vi spiegheremo il perché durante il nostro progetto naturalmente l'acad eider è una casa che trovate in località la grotta idro un grandissimo casamento giallo a cercare sulle difese del lago di idro trovate la foto per vedere della scalia di questa casa questa qua praticamente cos'era era già attiva nel 1500 ed era praticamente un posto funzionale come dicevo prima come moderno autogrill perché sulla strada della regina che portava fino al confine degli alto-ongarici nonché la rocca d'acqua che partiva da brescia da porta trent a brescia e arrivava praticamente facendo le coste quelle che adesso sono le coste e portava praticamente al confine con l'austia qui vi erano delle ca che mi dicevano loro che erano a santo eusebio a nave a udro e a preseglie e qua idro e servivano come posto tappa per i cavalli per le diligenze praticamente qua arrivava la diligenza faceva riposare e mangiare i cavalli cambiavano i cavalli quindi i cavalli più freschi e potevano anche dormire perché era come albergo infatti questo qua era c'erano al primo piano un'osteria un porticato per mettere sotto gli animali per farvi da mangiare c'era il magazzino e sopra c'erano le camere da letto e sopra questo che era un moderno autograve durante la grande guerra soprattutto all'inizio quando praticamente il confine era ancora a ponte caffaro era molto importante perché qui arrivavano tutte le diligenze postali nonché tutte le tutte le cose che arrivavano al fronte perché noi arrivavamo qua al fronte soprattutto i primi giorni di guerra quindi si stanziarono dentro degli ufficiali che praticamente era un posto di smistamento poste praticamente erano le poste del fronte qua dentro qui erano due ufficiali addetti a questo e vi erano anche le camere da letto sopra che erano per gli ufficiali durante la grande guerra con il grandissimo praticamente numero di lettere i pacchi alimentari che mandavano le famiglie per i propri soldati al fronte diventò un centro stoccaggio ancora più grande infatti qua quando arrivavano prima quei mezzi di trasporto cavalli poi motorizzati che arrivava la posta due volte al giorno e poi col treno qui arrivavano i tantissimi pacchi come dicevo prima amazon arrivavano tutti i pacchi e qui li smistavano per fargli arrivare al fronte naturalmente qua dentro durante la grande guerra c'era anche uno adibito a censore nel senso le lettere quelle che andavano al fronte non venivano tanto controllate ma le lettere che dal fronte da storo continuo arrivavano qua per essere imbarcate molte quasi tutte venivano visionate questo poi lo sappiamo perché abbiamo trovato sempre nei nostri diari smagheggiati che di uno che era dentro a cadela cadela che praticamente faceva il adibito a questo qui dentro c'era anche un'osteria un'osteria che rimase aperta anche durante la grande che rimane aperta anche durante la grande guerra infatti nei magazzini sopra le camere e rimane questo centro di osteria qui vi passarono molti giornalisti che volevano andare al fronte che volevano andare al fronte per prendere le notizie perché bisogna pensare che tutti i civili venivano fermati in località di vestone e praticamente la zona di vestone fino arrivare a caffaro all'inizio guerra era praticamente una zona una zona non fly zone praticamente era una zona di nessuno e non vennero mai non viene mai non si dice non vengono mai spostati i civili perché in inizio della guerra subito il fronte si è spostato molto più avanti però è rimasta una zona non fly zone infatti qui riuscivano a imboscarsi i giornalisti e venivano qua o al qua per sapere le notizie quelle più degli ufficiali e robe varie se no andavano all'osteria vaticano per sapere le notizie più più come si dice più contrabbandieri o robe varie da ricordare anche la cadeida che qui si fermò anche il colonnello corridori prima di andare sul monte palone e morire insieme alla splendente per una per un colpo di il primo giorno di guerra infatti era alla venone poi si fermò qua e poi proseguì l'avanzata con la sua 61esima fanteria e trovò la morte poco dopo sul monte palone l'abitato della cadeida era ancora imponente ed era costituita come detto prima barettino barettino sì bettola ristorantino magazzini stallo al primo piano sotto i portici sopra invece c'erano le camere da letto era un bellissimo pozzo e comunque ancora visibile molto ben visibile dalla strada statale che va verso madonna di campiglio la vedete quando arrivate in località grotte praticamente davanti al camping venus la troverete dall'altra parte che è ancora molto bello da vedere